Ciao, oggi dobbiamo studiare il Valle d'Aosta. Prima abbiamo il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che costa 5 euro. Ora, passiamo. Questo si impaga. Che schifo. Ok, guarda questa bellezza. Mi mettiamo la giacca. Ora, andiamo al Gran Paradiso. Che bella! Guarda! Cos'è? Ma che cos'è? Montagna e colina. Pianura. Ok. Sì, sì, stop trying to do that. Territorio! 100% montagna. Sì, sì, turn around, turn around. E guarda. 100% montagna. Ah! Via! Andiamo via! Uh! Andiamo via! Il mio oggetto è invisibile! Oggetto invisibile! Sono Wonder Woman! che cos'è questo cittadino? Che cos'è questo cittadino? Questo cittadino? Che cos'è questo cittadino? Ora, vediamo. bella! Aosta! Uffa! 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 che bella questa ora vediamo le piatte tipiche vediamo in cuscina polenta il pane fonduta cheese ora dobbiamo andare alla porta di i pretori e questa bella questa bellezza e costrui just like take some time to look at it get some good angles in ora in getto invisibile andiamo al castello di finis è uno delle castelle più belli più belli della vale d'aosta è costruito nel nel quattordici secolo è circondato da una doppia cinta muraia con tori di torette ora andiamo ora andiamo al monte più alto di italia che è il monte bianco questo è una cosa molto bella è molto grande ce l'abbiamo molte cose è bella can you cut this out can you cut this out yeah i will but uh was it over Grazie.